Buongiorno a tutti, come promesso proseguiamo nell'analisi delle biografie scritte da Francesco Saverio Grazioli a proposito di suoi colleghi durante la Seconda Guerra Mondiale e nell'ultimo video eramo rimasti in sospeso con Rodolfo Graziani e Rodolfo Graziani infatti è il primo della lista di oggi. Su Graziani abbiamo tanto discusso anche su questo canale, vi invito eventualmente a vedere anche altri video a tema, la descrizione che dà Grazioli è sicuramente molto molto stimolante per ulteriori valutazioni. La sua rapida ascesa agli altissimi gradi la si dovette esclusivamente alle sue eccezionali qualità di uomo d'azione senza alcun viatico di scuole speciali e di titoli accademici. L'Africa con il suo insuperabile fascino ben presto lo attrasse e fu il campo della sua rapida ascesa. Capitò in Libia quando dopo la guerra del 1518 si iniziava la riconquista armata e subito si rivelò qual era l'insuperabile comandante di colonne mobili autonome nelle operazioni che ci ridettero il possesso della Gefara e del Gebel Tripolino. Ancora più alta salì la sua fama allorché la nostra penetrazione si è stesa alle regioni desertiche più interne, della quale come generale di brigata al comando di truppe sahariane fu l'artefice principale, tanto nelle dinamiche operazioni combinate sul ventinovesimo parallelo quanto e più ancora nella rapida avanzata verso il lontano Fezzan e la regione di Fella a nord della quale coronano la sua bella impresa con la difficile vittoria di Birtha Griffith in pieno sconfinato deserto assolutamente inesplorato. Poco dopo a lui si dovette la integrale riconquista armata del Fezzan fino a Gat. Promosso generale di visione e nominato vice governante della Cirenaica, grazie alla sua adamantina energia, questa fu finalmente pacificata e protetta dalle incursioni oltre confine. La lontanissima oase di Kufra, felicemente occupata. Dopo un breve periodo al comando di un corpo d'armata in patria, lo troviamo nell'ottobre 1935 alla testa del corpo di operazione del fronte sud nella guerra etiopica e si dovette più che altro la sua intraprendente iniziativa se quel fronte sud considerato inizialmente come fronte difensivo si trasformò invece nel corso di quella fortunata campagna in una poterosa punta offensiva di inestimabile efficace in concorso con le operazioni principali procedenti da nord. Arara, a circa 1300 km dalla costa dell'Oceano Indiano, fu raggiunta da Graziani in perfetta sincronia con l'arrivo delle truppe del fronte nord, capitanale da Badoglio in Addis Abeba. Graziani fu premiato con la promozione al maresciallo d'Italia e subito dopo per l'affrettata partenza di Badoglio per l'Italia nominato vicere Addis Abeba, in una situazione tremendamente caotica e difficile del non ancora interamente occupato e pacificato impero. La storia reale di quel periodo con grande difficoltà di ordine generale e locale costituisce genuina testimonianza contro tutte le malvagie insinuazioni in contrario delle eccezionali qualità di Graziani, non solo come condottiero coloniale ma anche come uomo di governo e politico energico e avveduto. Quel periodo fu il suo duro calvario, a conferma delle amarezze che sono riservate ai forti allorché assurgono ad alte responsabilità. Poi fu per breve tempo capo di stomaggio dell'esercito, in momenti difficilissimi all'inizio della Seconda Guerra Mondiale e infine comandante supremo del nostro corpo d'operazione in Africa settentrionale. La sua opera di condottiero su quell'importantissimo teatro oltremare fu variamente giudicata, ma su di esso la storia documentata dirà un giorno la sua serena e obiettiva parola. Certo è che per il modo come la guerra in quel settore era stata preparata e per le oscillanti direttive superiori, ben difficilmente un generale al suo posto avrebbe potuto fare di più. Gelosie e calugne concorsero ad offuscarne la condotta. La scarsezza dei mezzi in confronto alla preponderante potenza nemica segnò il nostro destino e Graziani ne uscì immeritatamente sconfitto e, come sempre succede, sui suoi grandi meriti precedenti calò come un'ombra con somma soddisfazione dei suoi molti invidiosi avversari e fu messo al bando nel successivo corso della nostra disgraziata guerra. Ma fu allora, quando un disorientamento generale era piombato sulla nostra patria infelice, sì che nessuno sapeva più quale fosse la via più propizia per rendere meno completa la catastrofe, che egli, anziché nascondersi nella generale disperazione, ritrovò d'un colpo la sua impavida energia e scelta la sua via quale gli parve più adatta a diminuire il calvario del paese, vi si cacciò con indomita e coraggiosa fede, andando fino in fondo sapendo che l'attendeva fatalmente il sacrificio della sua persona. I posteri giudicheranno. Oggi troppe contrastanti passioni annebbiano la verità, ma fra tante figure grigi e vili, l'uomo che fu il capo delle forze armate del disperato tentativo di una repubblica sociale fascista contro gli orrendi e discriminati attentati alla nostra patria prostrata dovute alla cieche bestiale incomprensione dei vincitori ai quali c'eravamo arresi, avrà un giorno della generosa opera sua onesto e giusto riconoscimento. Comunque il nome di Rodolfo Graziani va messo senza dubbio fin d'ora tra quelli dei nostri più illustri condottieri coloniali d'ogni tempo. Il giudizio che Grazioli in maniera articolata e analitica rivolge a Rodolfo Graziani obiettivamente può oggi sembrare molto criticabile. Lascia perplesso anche me che in genere ha delle valutazioni tendenzialmente concordi con i giudizi che ci ha offerto Grazioli, ma in questo ambito si va secondo me a dipingere la presunta grandezza di Graziani, dimenticando tante cose dell'Africa, della Libia, degli anni venti, del periodo come vicere in Etiopia, del periodo in cui fu comandante in Africa settentrionale, dimenticando poi anche il suo periodo come ministro della difesa nella Repubblica Sociale. Quindi è un affresco che secondo me lascia aperte tante omissioni, lascia aperte tante gratificazioni, tanti elogi nei confronti di Graziani, molto probabilmente per voler in qualche modo parlare di suocera affinché nuora in tenda e la nuora ovviamente era a badoglio. Questo è un po' anche il punto che tocca tanti e tanti altri giudizi posteriore alla Seconda Guerra Mondiale. Da Grazioli ci aspetteremmo secondo me un'analisi un po' meno passionale e invece secondo me il giudizio, seppur tendenzialmente asettico della sua valutazione su Graziani, secondo me è comunque condizionato da altri elementi dentro e fuori di ostruzione. Il nemico del mio nemico è a mio amico e di conseguenza visto che Graziani era il nemico, uno dei grandi nemici di badoglio e visto che Grazioli aveva badoglio come nemico probabilmente questo ha influito. Ma andiamo avanti nelle altre tre biografie più corte. Passiamo a Alfredo Cuzzoni, che lo ricordiamo come sottosegretario alla guerra, lo ricordiamo come sottocavo di Stato Maggiore generale, uomo di senno e poi infine comandante dell'armata in Sicilia durante appunto il periodo dell'invasione anglo-americana. Uomo di senno e di solite qualità intellettuali militari, Di Giorgio lo stimava moltissimo e ciò torna a suo onore. In Sicilia trovò una situazione già pregiudicata, fu un buon sottosegretario alla guerra e per me uno dei migliori in questa mediocre schiera di capi. Giovanni Messe, su Guzzoni ho fatto anche un video quindi mi rimetto a quello che avevo detto, secondo me Guzzoni sono concordi nel giudizio di Grazioli, non ho molto altro da dire. Giovanni Messe, sotto il punto di vista della capacità di comando lo ritengo il migliore di tutti, anche egli però opportunista e da rivista senza tanti scrupoli. Era stato nella prima guerra mondiale un ottimo comandante di battaglione d'assalto, la sua azione in Russia e in Tunisia mi sembra degna di lode. Ha forti ambizioni politiche, esaltò il fascismo finché poté, poi ritornato dalla prigionia, posò a campione dei tempi nuovi, avido di popolarità. Anche qui il giudizio è abbastanza in chiaroscuro e anche qui posso dire che tendenzialmente sono d'accordo. Guglielmo Nasi schietta stoffa di condottiero sotto la rude e un po' scontrosa scorsa del suo temperamento austero, schivo di onori e di basse mire ambiziose. In pace e in guerra si segnalò quale esperto comandante d'artiglieria. Ufficiale di Stato Maggiore fu addetto militare a Parigi, poi capo di Stato Maggiore in Tripolitania all'epoca della brillante rioccupazione di quella colonia, dettando norme preziose per l'impiego di truppe sariane in terreno desertico. Dopo la guerra etiopica, cui aveva preso parte al comando di una divisione libica sul fronte sud, fu saggio e fattivo governatore della Rarra, a vede semplici e pratiche intorno al governo e dall'amministrazione di quel vasto territorio appena conquistato dai nostri armi e rifugiva dalle tendenze euforicamente retoriche allora dominanti dopo la sfolgorante conquista dell'impero. Guidò magistralmente l'occupazione della Somalia britannica, ai primordi della seconda guerra mondiale di cui ricordiamo l'ottantunesimo anniversario proprio in questi giorni. Poi venuti i tempi tragici del poderoso attacco concentrico nemico contro il nostro non assodato impero, la sua figura grandeggione la strenua lunga eroica difesa del Gojam, da lui diretta con suprema energia pur nella estrema penuria di mezzi disponibili. e nel più completo isolamento per l'avvenuto sgombero delle regioni circostanti. Mentre tutto era caduto solo il Gojam resisteva ancora e parve un miracolo, ma i suoi ordini brevi e stimolanti erano quelli che ridestavano le più stanche energie e quei laciri combattenti, affamati e con scarse munizioni non si arresero che quando furono ridotti all'estremo, uscendone con l'onore delle armi. Sono queste le prove che rivelano senza urpelli di grandi onori e di prebende le vere stigmate di un condottiero di razza e questo è il giudizio secondo me più corretto di un uomo che appunto venne sostanzialmente buttato allo sbaraglio in diverse circostanze ma seppe con misura, con modestia anche trovare e prendere il meglio dalle proprie truppe senza retorica, senza vacui obiettivi, senza necessità di dover sfoggiare capacità o ambizioni fuori dal consentito e dal possibile, quindi offre comunque un interessante spiraglio per parlare ancora in maniera più che onorevole di episodi del nostro reggio esercito. Detto questo, io qui mi fermo perché poi abbiamo altri personaggi che magari riusciremo anche a esaminare con più particolare attenzione. Oggi era la giornata di Graziani con questa descrizione particolarmente dura, per noi che l'ascoltiamo, io che l'ho letta e per voi che l'ascoltate, una descrizione inconsueta per l'epoca e anche oggi, Grazioli era convinto che comunque il giudizio su Graziani sarebbe migliorato, qualcuno lo esalta, qualche elemento nostalgico c'è sempre, però ovviamente il giudizio tendenziale è sempre molto negativo verso un uomo che ha peccato e omesso non solo sotto l'aspetto umano, portandosi dietro una serie di crimini inenarrabili, ma anche sotto l'aspetto operativo, alternando interessanti operazioni con altre operazioni assolutamente deprecabili. Detto questo, come al solito vi invito a mettere mi piace, iscrivetevi al canale e alla prossima, ciao!